Buonasera a tutti, adesso diamo un po' le scuole così tagliamo i tempi e diamo la possibilità alle bande di fare il cambio di scena. Chiamerei innanzitutto il signor sindaco e i due presidenti delle bande. Mi fa molto piacere, buonasera a tutti, intanto grazie alla banda di Costiglioli e complimenti, devo dire che non abbiamo ascoltato solo della buona musica, era dell'ottima musica, siete stati veramente bravi. Io non faccio parte della banda di Costiglioli ma volentieri vado sempre a dargli una mano. Ah ok, va bene, comunque noi l'abbiamo vista suonare lì per cui l'abbiamo associata a questa banda. Noi di Ocimiano siamo particolarmente affezionati alle bande, alla nostra in particolare, beh insomma la nostra banda ha una storia lunghissima e questa sera abbiamo anche il piacere di rivedere fra di noi un pezzo storico della nostra banda perché là c'è il secondo e io vorrei un applauso per questa banda che è molto contento di rivederlo. Siamo molto contenti di rivederlo, quindi non mi voglio comunicare, Ocimiano è felice di ascoltare questa bellissima rassegna di bande, il nome banda amica mi piace molto tanto, da proprio l'idea di questa collaborazione fra bande sullo stesso piano, cioè si mette una disposizione per far ascoltare della buona musica per intrattenere le persone. La banda ci accompagna sempre nei momenti di solito gioiosi, a volte anche tristi, ma la musica è sempre un ottimo veicolo di comunicazione e con la musica noi associamo ricordi dolci o meno allegri, ma sempre degli ottimi ricordi. Quindi io ringrazio di nuovo Valeria e il presidente di banda amica con gli altri presidenti e auguro a tutti di continuare per un altro passaporto. Grazie.